Il progetto si chiama Carte di Natale 2012, ma al di là delle curiosità legate alla festività ormai imminente, la mostra allestita nei locali di corso risorgimento offre al grande pubblico l'occasione di vedere da vicino i tanti documenti custoditi nell'archivio di Stato di Sernia, di scoprire l'affascinante mondo della ricerca e perché no, di apprendere anche qualche notizia inedita o poco conosciuta sui personaggi e sulla storia della nostra terra. Il Ministero per i beni e le attività culturali da qualche anno ha cercato di promuovere con vari piani di comunicazione ancora di più il proprio patrimonio culturale, apertura straordinaria che il Ministero ogni anno ripropone per avvicinare ancora di più un pubblico più vasto, che non siano solo ricercatori, ma tutti cittadini interessati alla ricerca e alle radici del proprio paese. I documenti che qui abbiamo selezionato diciamo che ripercorrono un po' il filo delle carte di Natale di questo slogan che il Ministero ha voluto adottare proponendo nello stesso tempo tutto il patrimonio archivistico che noi conserviamo. Ci sono documenti che riguardano i vari versamenti che gli uffici dello Stato hanno fatto verso il nostro ufficio e donazioni e archivi privati che noi conserviamo, come dicevo, o per donazioni o perché ritenuti di particolare importanza storica.